Bene amici del canale, benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò le cascate del torrente Boite nei pressi di Malgarastua, nel comune di Cortina d'Ampezzo. Il Boite è un corso d'acqua a carattere torrentizio delle Dolomiti, affluente destro del fiume Piave. Lungo 45 km e con un bacino di circa 400 km², sia per lunghezza che per ampiezza del bacino e secondo affluente del Piave per importanza. Nasce a nord di Cortina d'Ampezzo, in località Ciampo de Crosc, a quota 1800 metri circa. Attraverso i comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Valle di Cadore per rimettersi poi nel Piave a Perrarolo di Cadore, dopo aver attraversato l'omonima valle. Nel suo corso riceve numerosi torrenti e rii montani. Sul corso del Boite vi sono i laghi artificiali di Vodo e Valle di Cadore. Poco più a valle del bacino di Vodo, il Boite passa per la gola detta Chiusa di Venas, dal nome dell'omonimo paese soprastante, che rivestì un'importanza strategica e militare per diversi secoli. Vi lascio ora con queste stupende immagini delle cascate del Boite nei pressi di Maiga Rastua e non metterò alcuna musica di sottofondo, questo perché mi piace proprio sentire il rumore dell'acqua che scorre. Grazie. 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 Bene, con l'immagine di queste stupende cascate che io vi saluto, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di scrivere un commento qui sotto se volete più video di questo tipo, quindi in natura idraulica qui sul canale, e soprattutto di iscrivervi al canale. Infatti vi ricordo che ben il 99% delle persone che visualizzano i miei video non sono iscritte al canale, quindi se vi iscriveste tutti saremo decine di migliaia, mi farebbe molto piacere e vi aiuterebbe molto nella realizzazione e nel portare avanti questo progetto. Detto ciò io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel. Grazie a tutti.